Buongiorno, come vi avevo detto anche tra la settimana usciranno video di questo tipo, stavolta voglio parlare di una serie televisiva, una bellissima serie televisiva, che è un reboot di una serie uscita agli inizi degli anni Ottanta, una serie con parecchi problemi di accettazione del pubblico, anche se si forma una fanbase, di qualità generale del prodotto e che si poneva poi in effetti in urto con un film uscito in quel periodo che era Star Wars, ci furono anche delle polemiche con Lucas, ci fu anche l'osservazione di Isaac Asimov, un gigante della letteratura che disse che se voleva vedere i clone di Star Wars guardava Star Wars, ecco io dissento totalmente da quello che scrisse a quel tempo Asimov, perché no, questa serie non è un clone di Star Wars. Io sono molto più affine alla recensione che comparve su Ares, che diceva Star Wars è una serie banale in cui non c'è una sola idea originale, ma è tutto raccontato bene e non ho problemi a dirlo perché lo stesso Lucas lo ammette, hanno preso, letteralmente, saccheggiato la sci-fi eroica, quindi quella di John Carter, di Williamson, di Hamilton e compagnia e ci hanno costruito una serie, quindi di idee originale non ce ne sono manco mezza in Star Wars, però sono raccontate bene, sono raccontate in modo impattante, sono raccontate in modo che ti appassiona, che ti fa emozionare, questa è la grande qualità, cioè prendersi delle idee banali, già sentite, già utilizzate, ma riuscire a raccontarle bene, che poi è il problema che poi si è verificato quando effettivamente è uscito il film su John Carter, vengono già parlato in altri video. L'idea, da parte di chi non conosceva la saga di John Carter, era questa roba io l'ho già vista, sì l'hai già vista, ma questo è il prodotto originale, cioè tutta la roba che hai visto dopo deriva da questo prodotto, purtroppo fatto dopo tutti i film ispirati o che hanno utilizzato quel materiale sembra una cosa già vista. Poi i fan veri che si trovano a quello che ha combinato la Disney, vedi l'altro discorso, però c'era proprio questo problema, sì, è sì un già visto, ma il fatto è che questo è l'inizio di quella catena che ha portato al già visto, come vi ho detto sul video sul richiamo di Cthulhu, c'è il punto di partenza, solo qui il punto di partenza e poi è stato utilizzato dopo, è stato utilizzato male. Ma la serie in questione che uscì in quel periodo era Battesta Galactica, ecco, riferendosi a Battesta Galactica, sempre nella stessa recensione, in Battesta Galactica ci sono delle idee originali, ma sono raccontate male. Ed è vero l'idea delle dodici colonie umane che vengono distrutte dalle macchine che loro stessi hanno creato, l'idea della fuga nella cerca della tredicesima colonia, cioè la terra di questa nave da battaglia, l'unica superstita che viene seguita, da tutte le altre navi civili che sono uscite a sopravvivere alla distruzione delle dodici colonie, il traditore umano che appoggia su porti i Siloni, le idee c'erano, il problema è come sono state raccontate. Però Richard Hatch, che era uno dei personaggi, dei protagonisti della serie originali, decide di spingere per un reboot, perché questo di fatto è un reboot. Ora, un reboot che all'inizio non viene accolto benissimo dai fan della serie originale, poi però quando lo vedono cambia un'idea letteralmente in un secondo, perché il reboot è spettacolare, è bellissimo. E visto con quello che sta uscendo adesso, in ottica Disney, Star Wars, Battesta Galactica se li mangia crudi quelli, una serie di una crudezza impressionante, realistica, siamo di fronte alla fantascienza sporca, quella che viene rappresentata in Alien, ad esempio, cioè sapete l'anno stromo non è il posto più pulito del pianeta, l'unico posto veramente pulito sono le capsule di ibernazione, le capsule in cui sta l'equipaggio durante il viaggio, per il resto è una nave sporca dentro, i materiali non sono iper fantascientifici, strumentazioni eccezionali, così, è l'altro posto pulito dove c'è il computer centrale, per dire, ma per il resto è una serie che dà un forte impatto realistico, sì, l'incipit è lo stesso, le dodici colonie vengono attaccate dai siloni e spazzate via, l'unica nave che sopravvive all'attacco, un attacco tra l'altro un po' diverso, qui abbiamo un attacco prima di tutto virale, chi ha costruito e progettato la rete di sicurezza delle colonie, Gaius Baltar, per motivi, diciamo così, abbastanza carnali, rivela a un assilone donna i codici per accedere e disattivare, inserire quindi un virus che sostanzialmente disattiva tutte le difese della flotta e anche tutti i sistemi computerizzati delle battestar, quindi quando attaccano i siloni la flotta terrestre non può reagire, i Viper letteralmente escono dalle battestar e poi perdono il controllo e si mettono a ruotare da soli perché sono spenti e quindi tutte le dodici colonie vengono nuclearizzate con un bombardamento nucleare estremo. Sopravvive il Galactica che doveva essere adibito a nave Museo, che aveva partecipato alla prima guerra contro questi siloni e quindi ormai era una nave datata, nave comandata ancora dall'ammiraglio Adama che stava per andare in pensione e iniziare un'attività professionale civile che si trova a radunare i superstiti, le poche nave superstiti, iniziare un viaggio alla ricerca della famosa leggendaia tredicesima colonia. In realtà nel pilot Adama dice chiaramente che non sa assolutamente dove sia questa tredicesima colonia. La balla che lui racconta alla gente che tutti gli ammiragli delle battestar si tramandano la posizione della tredicesima colonia è una balla per tranquillizzare gli anni, per dare un attimo di speranza. Lo stesso governo viene spazzato via, l'unico rappresentante che rimane dal governo è Laura Roslin, che diventa quindi presidente delle 12 colonie, di quello che rimane delle 12 colonie. Quando dico fantascienza sporca non aspettatevi scudi di energia, raggi fotonici, no l'alabardo spaziale andiamo nell'esagerato, però armi iper fantascientifiche, qui le armi sono tutte cinetiche, lo si vede benissimo, le batterie d'artiglieria sparano proiettili ad altissima velocità ma sparano proiettili. Le armi di distruzione sono testate nucleari, tanto che nel pilot è una cosa che fanno, il Galactica va a cercare un vecchio deposito dove sono contenute testate nucleari per caricare l'armamento del Galactica e infatti le trova lì e lì scopre anche che esistono i Siloni umani, perché il primo incontro con i Siloni umani avviene sulla stazione di Tregua. Dopo il primo conflitto in cui sostanzialmente nessuno dei due era riuscito a vincitore, i Siloni si ritirano e si stabilisce una tregua e viene costruita una stazione di tregua in cui gli umani e i Siloni devono incontrarsi per discutere il mantenimento della pace, o meglio dello stato di non conflitto, perché la tregua non era pace. I Siloni non vengono mai, c'è sempre il rappresentante umano, tranne un giorno in cui il rappresentante umano è lì, sente appresi la porta da parte dei Siloni ed entrano due centuioni che scortano un'assilone umana. Questa va vicino al rappresentante e poi la stazione esplode. I Siloni in realtà non hanno paura di essere distrutti, perché quando un Silone umano viene distrutto viene rigenerato attraverso una stazione di ressurrezione. Basta che la stazione sia a una distanza utile per poter far sì che la memoria del Silone umano venga trasmessa al nuovo corpo. Di fatto è rimpiantano in un corpo nuovo, vuoto, tutta la memoria e l'esperienza del Silone, che è un'esperienza anche traumatica, perché comunque nella memoria rimane anche il momento della morte. Dicevo, questo è l'incipit. Poi come viene costruita? Allora, Edward James Holmes nella parte dell'ammiraglio dama è spettacolare. Duro, comprensivo quando è il momento, un uomo che è capace di cambiare anche le sue posizioni, perché all'inizio lui comunque è un anti-Silone convinto, ma poi alla fine cambierà posizione in quel senso. Lui era la Rosny, la presidente interpretata da Mary McDonnell, che si scontrano in più occasioni, cioè caratteri estremamente forti. Non c'è bisogno, come fanno adesso, di incaricarli. E come fanno gli attori? Se l'attore è bravo, non c'è bisogno di costruire un personaggio tarocco intorno come fanno adesso. Perché queste cose riesce a rendere... La Mary McDonnell l'avrete magari vista in The Closer, che a me piaceva molto più dalla protagonista, tra l'altro. E poi nella serie successiva, che sostanzialmente era uno spin-off, che non mi ricordo il nome. Comunque i protagonisti erano gli stessi, tranne non c'era più la protagonista principale, che era passata... Sembra che fosse tornata a lavorare per la CIA, bella roba. Dicevo... E c'è questo viaggio, questo viaggio pieno di imprevisti, c'è l'attentato all'ammiraglio Adama, c'è la necessità di cercare comunque le tracce della tredicesima colonia, di cercare da qualche parte. Quindi la Roslyn, che è anche malata, quindi sa che non sopravviverà molto, che si affida a cure e a libri religiosi per cercare le tracce della tredicesima colonia. E per cercare le va nel pianeta originale, dove si cerca la freccia di Apollo. Vedete le colonie che hanno nomi di segni zodiacali. E tra l'altro le colonie che sono rappresentate in un mondo estremamente materialistico, estremamente classista, in cui si è persa qualsiasi fede, o quasi completamente la fede. L'unica cosa che importa è il denaro e l'opulenza, la proprietà materiale e il classismo assoluto che c'è verso addirittura. Alcune colonie che sono considerate inferiori agli altri e lo si vede anche nella flotta. Qui, a differenza della serie originale che era manichiera in questo senso, buone da una parte e cattivi dall'altra. Qui abbiamo i buoni e i cattivi non esistono in modo così separato. Ci sono buoni e cattivi sia tra umani che siloni, ma ci sono azioni buone e azioni cattive anche dai personaggi migliori. Cioè, personaggi che, diciamo così, hanno una loro molte sfaccettature che poi cambiano nel tempo. Mi viene in mente Cara Trace, Scorpion, Starbucks, comunque, nella serie, che è interpretata da Keith Sarkov, che è una bravissima pilota, ma è indisciplinata, irreverente, offensiva, una mezza drincona in questo senso, e che poi diventerà qualcos'altro durante la serie. Jamie Bamber, che fa la parte del figlio del meraglio d'ama, Apollo, che a un certo punto, quando arriverà a comandare la Pegasus, si lascerà andare, diventerà un bolso ciccione, abbandonato, quasi sfatto a se stesso, senza più rispetto per sé. E poi mollerà la carriera da pilota perché non è il suo mondo. Infatti diventerà sia avvocato che vicepresidente delle colonie. Soul Tide, che è interpretato da Michael Logan, che è il vice dell'amiraglio d'ama, che è un silono umano, ma non lo sa come nessuno dei cinque siloni umani originali lo sa. E qui una cosa, secondo me, intelligentissima della serie, questa non è una guerra in sé, e di per sé, non è un evento che è successo una volta. Questo è una ripetizione continua di eventi. Cioè, la guerra iniziale tra siloni umani parte dal pianeta originale di umani e siloni. Il pianeta diventa inevitabile, infatti quando vanno in esplorazione a cercare la freccia e tutto, la zona è completamente irradiata. Però da lì cosa succede? Inizia una serie di guerre contro guerra infinita. Gli umani che attaccano i siloni, i siloni che contraattaccano gli umani, gli umani che attaccano ancora i siloni, in una serie di distruzioni totali, perché appunto la tredicesima colonia vagheggiata, questa famosa, in realtà non è una colonia terrestre, è una colonia silone, un pianeta in cui i siloni, i cinque siloni umani, si erano rifugiati per vivere in pace, senza alcuna intenzione di scatenare un'altra guerra e saranno gli umani ad andare a cercarli e scatenare questa guerra. Purtroppo la velocità delle navi di quel tempo impedì ai cinque siloni, ai cinque modelli di silone umano rimasti, quindi uno per una di quelle classi, di avvisare gli altri siloni che gli umani sarebbero andati a distruggerli. In pratica è un continuo iterare di guerra e contro guerra, in un ciclo quasi infinito, in un ciclo completamente staticizzato. Cioè, gli umani attaccano le macchine, le macchine attaccano gli umani, gli umani attaccano le macchine, le macchine attaccano gli umani, senza un senso, senza un freno a questa cosa. Da parte dei siloni, tra l'altro qui c'è un'altra cosa, mentre gli umani tagli e i 12 ciclo sono estremamente materialisti, estremamente povere dal punto di vista spirituale, i siloni sono estremamente religiosi. Il loro modo di concepire la realtà è completamente diverso dal nostro, perché la concepiscono quasi come in un sogno, ma hanno trovato qualcosa, hanno cercato qualcosa, lo si capisce un po' di più nei film, che ci sono dei film che supportano le quattro stagioni della serie. In Webplay si capisce questa ricerca dei siloni, questa ricerca della spiritualità e questa ricerca anche del passo evolutivo successivo, cioè i siloni sì possono risorgere, sì, ma non possono procreare. Ogni silone deve essere costruito e la scienza che portava alla costruzione dei siloni umani è andata perduta, come è andata perduta anche la tecnologia originale della Ressurrezione. I siloni risorgono nella stazione di Ressurrezione, ma quella stazione non l'hanno costruita i siloni che combattono questa guerra, è stata costruita dai siloni originali e quella tecnologia non c'è più. Quindi quando gli umani distruggono la stazione di Ressurrezione tutti i siloni diventano come gli umani, cioè non possono risorgere e questo fa impazzire Cavill, per dire Cavill che è il silone 1 della classe 1 è forse anche quello più vicino agli umani, anche lui è un tecnocrate, anche lui è un materialista assoluto, mentre dall'altra parte ci sono poi umani che cominciano a cercare una certa spiritualità, arrivando appunto nella figura di Gaius Balter che per due terzi della storia è considerato il traditore, un fetente, ed è vero, ha ceduto i codici a un assilone, ma in realtà non glieli ha ceduti, allora per come viene presentato all'inizio è una cosa, ma dopo gli ha ceduti per, diciamo così, la mera lussuria, l'assilone Caprica 6, il modello 6, cui viene dato questo nome in onore di quello che ha fatto, cioè ottenere i codici per disattivare le difese delle colonie, in realtà lui è innamorato veramente di Caprica 6, però nella sua mente non riesce a concepire questa cosa perché è diventato arido, poi lui quando i terrestri troveranno, no, pardon, i terrestri, i coloniali troveranno un pianeta su cui vivere, un pianeta arido, sì, ma comunque vivibile, lui sarà stato eletto presidente, quando arriveranno i siloni lui diventerà collaborazionista dei siloni, infatti scapperà con loro, poi verrà catturato il terrestri processato e assolto in questo senso, assolto avendo come difensore proprio oltre all'avvocato che si sceglie, non mi ricordo il nome, proprio il figlio di Apollo e la cosa interessante, quando le persone cambiano è che quando finirà il processo Walter sarà assolto, ovviamente con il fatto che glielo dicano, qui sei stato assolto, però io fosse il posto, tu non andrei tanto in giro nelle navi perché c'è gente che, diciamo ci sono circa 40.000 coloniali che se te pigliano il talchiare all'oscuro te li scano, ma quando Apollo e Adama parlano, cioè in merito alla sentenza, scopri che uno di quelli che hanno votato contro la condanna capitale di Walter è stato proprio la Mirai Adama e quando scoprirà che Sol Tig è uno dei Siloni originali, sì avrà uno sfogo di una rabbia feroce, insulterà lui, insulterà la moglie, però poi parlando proprio con Sol capisce che prima di essere una macchina umana Sol è sempre stato il suo amico, il suo compagno è quello che nei momenti di difficoltà era al suo fianco, infatti quando ci saranno la doppia puntata sull'ammutinamento, saranno insieme a difendere, a tentare l'ultima difesa nella prima parte del doppio episodio e se lo diranno è stato un onore stare al tuo fianco, è stato un onore lavorare con te, poi saranno tutti e due processati dagli ammutinati, solo che quando si sta per avvenire la fucilazione arrivano Apollo e gli altri che hanno, che si sono infiltrati nel Galactica, arrestano tutti i reparti che dovevano fucilare Adama e Sol e c'è la controreazione, c'è bellissima la scena in cui Edge che guida l'ammutinamento, guida la rivolta, Robert Edge fa la parte di un personaggio estremamente controverso perché è un carcerato politico, è un estremista, però se uno pensa alle sue idee non sono così sbagliate di base, quello che lui chiede, infatti quando per aver scarcerato, perché serve qualcuno che aiuti a gestire la flotta e poi diventerà vicepresidente, quello che chiede lui è parità di diritti sulle navi, non che ci siano navi che hanno più cibo, più acqua e altre che sono ridotte al lumicino avendo poco cibo, poco acqua, poche tutele sanitarie, non che alcune colonie sono curate meglio e altre colonie no, perché queste colonie sono strutturate veramente in modo classista, Caprica, Capricorna è la colonia più ricca, tratta le altre quasi come se fossero colonie di serie B, andando sempre più a scendere, e su questa cosa Edge è bravissimo a fare la parte del dissidente, del traditore, poi alla fine, ma comunque che porrà delle questioni reali, cioè non si può essere classisti in una situazione come questa, non si dovrebbe mai essere classisti, ma tantomeno in una situazione di emergenza, e Adama in certo senso lo ascolterà, lo ascolterà anche la Roslin che veniva comunque da Caprica e non aveva la percezione esatta di quello che succedeva nelle altre colonie, come l'alto borghese che non vede il proletario, è quella, quindi è un'assee anche sociale, cioè le discriminazioni ci sono, sono forti, non c'è un uniformità, non è che i buoni sono da una parte, i cattivi sono dall'altra, i buoni e i cattivi ci sono ovunque e anche nella stessa persona, nella stessa figura, quando appunto andrà male l'abbottinamento, verranno liberati Adama e Soul, andranno all'assalto del centro comando, qui tra l'altro per vi, stavo dicendo, Edge manda il messaggio alla nave base Silone che si era ribellata durante la secessione dei Siloni, dicendo che avevano già fucilato l'ammiraglio Adama e Soul, e c'è la reazione della Roslin che già si era messa insieme all'ammiraglio Adama, che ordina di caricare tutte le batterie della nave base Silone per colpire il Galactica, e i Siloni a bordo della nave base la seguono, non solo i Siloni umani, ma anche i Centurioni la seguono, perché anche loro sono, sì, non sanno un aspetto umano, ma hanno un'intelligenza, hanno un'indipendenza, non sono soltanto strumenti. Poi ovviamente arriva la comunicazione che non era così, tanto che loro sapendo che ci sarebbe stato l'attacco per evitare la nave Galactica si preparano a fare l'ipersalto, ma a Tirolo, che è un altro Silone umano, un altro di quelli dei cinque originali a cui era stata cancellata la memoria, gli unici esemplari rimasti dei cinque originali, perché gli altri erano stati tutti spazzati via nella distruzione della tredicesima colonia, quella che loro chiamavano Terra, toglie il componente del sistema di salto, la nave non salta, e lì l'ufficiale più alto in grado dei rivoltosi, che è interpretato da Alessandro Giuliani nella serie si chiama Felix Gaeta, dice che è inutile, è finita, infatti arrivano a Dama, li arrestano e poi li portano davanti al muro e c'è la fucilazione. Non vediamo fisicamente loro che cadono per la fucilazione, ma diciamo che la scelta che fanno è migliore, perché da una parte vediamo Hatch che sorride guardando Gaeta, Gaeta che ha perso una gamba durante un attacco Silone, che dice che ha smesso di prudere, ha smesso di dargli fastidio alla ferita, poi vediamo la faccia di Dama che è a fuoco, e sappiamo che sono stati tutti fucilati, poi ovviamente buttati fuori da lì, e diciamo che era una tradizione, dall'inizio della serie, quando scoprono dei Siloni umani, per ordine della Rosli, vengono sparati nei tubi di lancio dei Viper, quindi fuori nello spazio. Però avevano detto, i Siloni sono profondamente religiosi, e in questo ciclo continuo di guerra e contro guerra, di distruzione reciproca continuata nel tempo, ecco, interviene qualcosa. Quando dico, allora, uno critico disse che la parte religiosa, secondo lui, non era adatta, o si prestava male ad essere, invece la parte religiosa, la parte del Divino, in questa serie ci sta benissimo. Qualcosa interviene in questo ciclo infinito di guerra e contro guerra, qualcosa che altera completamente gli eventi, qualcosa che né umani né Siloni possono capire. Cioè, l'evento in questione è Atena, pilota dei Viper, Silone umana, rimane incinta di Agaton, pilota umano. Lei è una Silone, i Siloni non hanno la capacità di riprodursi. Tanto che sulla terra, sulle colonie, hanno istituito una struttura in cui vengono portate le superstiti donne catturate per fare esperimenti sulla riproduzione. Ovviamente quelle poverette non ne sopravvivono e ci porteranno anche Carates che invece riusciranno a fuggire. E qui invece cosa abbiamo? Senza interventi di alcun tipo, tranne quello logico, vabbè, un Silone e un umano hanno una figlia. E questo è un evento che, nell'ottica dei Siloni credenti, è un evento che non ha una spiegazione se non l'intervento di qualcosa di superiore. Ma anche nell'ottica degli umani non c'è una spiegazione razionale. E questo cambia anche determinati paradigmi. E poi arriva l'altro cambiamento. Caratrace, pilota, durissimo, che è sacro, bravissima, sì. Ma lei muore durante un'attacco, durante un'operazione. Però ritorna sulla nave. Cioè, lei non sa di essere morta. Lo scoprirà perché lei è un altro Silone ribelle, uno dei Siloni umani ribelli. Andranno, vedranno, troveranno il suo Viper. Troveranno il suo Viper, il suo corpo, il suo scheletro consumato dall'ambiente circostante e la sua più astrima identificazione. E lei si chiede, ma io chi sono? E glielo dice, tu sei un angelo sceso tra di noi. Perché è vero, l'elemento religioso qui ha un fattore di arresto. È come se un'entità superiore avesse detto, io vi ho dato il libro a Brito, l'avete usato così, adesso basta, adesso intervengo io. Non potete continuare in questo modo. Trovate un punto d'incontro. Il punto d'incontro è la figlia di Agaton e Athena. Poi la serie, ve l'ho detto, ci sono tantissimi eventi. Il personaggio più negativo, per dire che sarebbe difficile fare adesso questo e questo, il personaggio più negativo compare nelle stagioni regolari e poi nella serie Razer. Cioè nella serie, perdono, nel film Razer. Ora, il personaggio in questione è l'ammiraglio che comanda la Pegasus, che invece è una battestà moderna, quella che viene chiamata bestia, ed è più alto in grado rispetto ad Adama. Ora, questa donna, questa donna è una ista da competizione, ma veramente, ista e natista, cioè è una nazionale socialista, diciamo così, è una criminale di guerra, è un mostro. Nel film Razer, lei ordina di... trovano alcune navi coloniali, superstiti, che non avevano trovato il Galactica. Lei ordina di saccheggiare quelle navi, di portare via tutto il cibo, tutto il materiale disponibile. Agli umani, a bordo di quelle navi che si ribellano e gli chiedono come faranno a sopravvivere, lei ordina di eliminarli, cioè di sterminare la sua stessa gente. Lei è una fanatica della guerra. Perché, dicono, potrebbero farlo adesso? Uno per la figura che... perché lei è l'unico personaggio in tutta la serie che non ha redenzione. Anche Cavill alla fine, sì, poi si suicida, però lui nella sua disperata ricerca di far sopravvivere la sua gente, quando i cinque originali gli dicono guarda che noi ti diamo la tecnologia per la ricostruzione delle stazioni di ressurrezione, questo significerebbe salvare la sua gente, nonostante Cavill sia anche lui un bel personaggio negativo, perché ve l'ho detto, i siloni umani sono tredici, i cinque originali ce ne sono altri otto. Tra quegli otto uno, Michael, era estremamente creativo, non mi ricordo, forse era la serie sette in quel senso, era estremamente creativo. E' forse detto anche quello che è stato il primo ad entrare in contatto attraverso il loro modo di percepire le cose con qualcosa di diverso. Ma la sua creatività urtava il materialismo razionale di Cavill, il Cavill fa distruggere l'intera sua serie. E questo, la moglie di Solteig, che anche lei è un assilone, una dei cinque originali, e lo ricorda, anche lei all'inizio è un personaggio che appare, un personaggio negativo, una che è traditrice, collaborazionista, con una morale abbastanza discutibile, un'altra drincona ma di quelle brutte. Poi in realtà, Crescendo diventa un personaggio estremamente complesso e interessante, e il suo confronto con Cavill in merito alla materialità delle cose, al valore anche della componente filosofico-ommunistica creativa, è un bellissimo dialogo in cui alla fine Cavill se ne va perché non trova più argomenti. Infatti cosa vuol fare Cavill? Per capire perché sia nata Eva, la vuole fare a fette sostanzialmente, non cerca un'altra spiegazione. Mentre la numero 3, interpretata da Lucy Lawless, glielo dice chiaramente, lei quel qualcosa l'ha percepito, ma lui non riuscendo a capirlo da materialista, lo nega, tanto che farà distruggere anche tutta la serie 3, ne rimarrà soltanto una, una di quelle che saranno le ribelli, e i ribelli che affiancheranno poi gli umani, ma una sola, tra l'altro bravissima Lucy Lawless. Ora, la mia opinione su Xena e Hercules è abbastanza semplice, spazzatura trash, che è invecchiata anche in modo atroce, ma tra la tizia che per metà del tempo urlava, per l'altro metà del tempo saltava, e la recitazione misurata e controllata della Lucy Lawless in Battesana Galattica, c'è un abisso. Tra l'altro lei poi sarà quella che farà una scelta drammatica. Quando arriveranno sulla Terra, quella che per loro era la Terra, la tredicesima colonia, scopriranno che è un deserto nucleare, ma non solo, che era abitata da Siloni, cioè non c'erano umani, quella era una colonia Silone, erano i cinque Siloni, le cinque serie di Siloni umani, più i centurioni, che avevano deciso di vivere lì in pace, non volendo più combattere contro gli umani, e gli umani li avevano raggiunti, avevano disintegrato l'intero pianeta, bombardandolo con le destate nucleari. Lei sceglierà di restare lì. Cioè, in un pianeta in cui non c'è cibo, l'acqua è contaminata, non c'è nulla, lei sceglierà di restare lì. Cioè, deciderà di spegnersi lì, e sa che quando si spegnerà sarà morta definitivamente perché non c'è più un luogo in cui andare. La sua serie è stata distrutta completamente, e tra l'altro poi gli umani distruggeranno la stazione di resurrezione, rendendo i Siloni come gli umani. Ogni Silone caduto è una perdita. Per dire, ci sono veramente anche elementi di etica. Cioè, quando gli umani scoprono che, mentre Walter è alloggiato sui navi Silone, da collaborazionista, scoprono che esiste un virus che attacca i Siloni e gli annienta, e lì viene fuori il dubbio, perché lo scoprono anche Walter, che però non lo dice, ma lo scoprono anche gli umani, e viene fuori il dubbio, perché già lì c'era stata la scissione. Lo utilizziamo o non lo utilizziamo? Perché se lo utilizziamo tutti i Siloni moriranno, tutti, in un colpo solo, perché è un virus che aveva una diffusione, come i virus informatici, ma ad una velocità spaventosa. Basterebbe mandare la sonda in cui è inserito questo virus, che, mettiamola così, per metà è informatico per mettere organico, perché i corpi dei Siloni umani che si trovano lì sono ridotti in condizioni terribili, oppure no. Cioè, puoi compiere un genocidio gigantesco utilizzando una singola cosa, ed è quello su cui dibattono. Spediamo questa sonda da quelli là. Basta solo che una delle loro navi lo trovi, una qualsiasi, anche un loro caccia, che entri in contatto con questa cosa, e loro sono tutti morti. Non se ne salverebbe uno, morirebbero tutti in pochissimo tempo, perché il virus si diffonderebbe a velocità astronomica, e non avrebbero scudi, non avrebbero tempo neanche per proteggersi. Invece poi si decide, fortunatamente, di non usarlo, perché c'è un limite a tutto, c'è un limite anche a quello che si può fare in guerra. Quello che ho detto che il personaggio di Kane è estremamente negativo, perché lei l'avrebbe usato, lei è un mostro. Lei, quando scopre che la sua amante è un assilone, è una coppia di Caprica, la fa restare la tortura. Vorrebbe torturare anche Boomer, Athena, quando viene a sapere che è un assilone. Mentre il capitano Adama è pronto addirittura a mandare i suoi Viper a combattere contro il Pegasus per impedirgli questa cosa. Fortunatamente la cosa lì si ferma lì. Essendo un mostro, essendo una macellaia, poi alla fine farà la fine che si merita. Sarà proprio la Caprica che lei voleva massacrare, prenderla, sacchiare all'oscuro e aprire una finestra dove lei non aveva niente. Cioè, in mezzo alla testa e in mezzo al cuore, ecco. Però, ragazzi, devo dire, è una serie che vi appassionerà. Cioè, se uno la guarda, vola via. Anche i film sono molto belli. E ti aiutano anche a capire certi contesti. Ad esempio, è in Razor che scopri che Caratrice ha un destino ben diverso da quello degli altri. Cioè, di essere la portatrice del messaggio di colui che è. Sto usando un'espressione che riguarda noi. Di colui che loro non conoscono. Di qualcosa di superiore. Ed è quello che in effetti succede a lei quando ritorna. Prima insisterà per avere un nave per cercare un pianeta che secondo lei è la Terra. E non lo troveranno perché non è ancora il momento e non è quello il suo compito. Ma poi si arriverà la catarsi finale. Cioè, quando ci sarà l'ammutinamento. Si scoprirà che il Galactica ha dei problemi tecnici per cui stanno andando in pezzi. Si tenterà di ripararlo con il gel riparante delle navi Siloni, ma non è la stessa cosa. C'è la battuta dell'ammiraglio d'Ava mentre parla con Tirol. Quando si costruiscono le cose a risparmio. Anche lì si fregavano i soldi mentre costruiva le navi da guerra. Vabbè. Dicevo. I Siloni mandano un'altra Atena a bordo delle navi che rapisce Eva. Di parte la spedizione di salvataggio. Formata solo da volontari, mentre la nave base Silone Ribelle resterà a difendere le navi civili. E ci sarà lì la sequenza. Ragazzi, parliamo di una serie tv. Ma la sequenza del combattimento è spettacolare. E penso che l'altro viaggio su YouTube con la musica non originale, ve lo dico. Se non ricordo male ci hanno messo la musica dei Tu Stai Pro Mel. Ma il Galactica con a bordo solo i volontari che fa il balzo. Ormai quella nave comunque non ce la farà quasi più. Fa il balzo. Arriva vicino al punto in cui sta la stazione centrale dei Siloni. La base madre che è posizionata vicino a una singolarità. Vediamo il fuoco dell'artiglieria Silone. E si vede chiaramente che non sono cannoni. Sparano proietti all'altissima velocità ma sono proietti di cinetici. Letto qui, le corazze sono corazze. Quando esplodono le testate nucleari contro il Galactica sono testate nucleari. Certo, la nave è schermata dalle radiazioni ma non ci sono schermi di energia, per dire. La nave avanza lentamente e poi viene data a tutta velocità su ordine di Adam e Saul il movimento della nave. La nave prende velocità mentre viene bombardata e attaccata dai cacciasiloni mentre i Viper cercano di proteggere la nave e mentre le navette più pesanti stanno portando testate nucleari per colpire la parte esterna della base Silone il Galactica sperona direttamente la base e lì c'è la battaglia all'interno della base. Si arriverà appunto al confronto tra l'Atena, la mamma e l'assilone che si era spacciata per Atena. Anche qui non ci sono le classiche scene di Lia che, cioè quando questa si resa si conto di quello che voleva fare Cavill il numero uno la restituisce alla madre non è che Atena gli dice grazie gli spara in fronte è una reazione umana però ti ha portato via la figlia sapendo quello che gli voleva fare e poi la bambina viene ancora presa da Cavill e lì c'è la discussione tra Cavill Adama i Siloni umani alleati con gli umani e i due rimasti dei Siloni umani che invece vogliono portare avanti il conflitto i cinque originali che dicono a Cavill che gli daranno la tecnologia per costruire la macchina per la ressurrezione e gliela stanno per dare lì si ferma tutto il combattimento cioè Cavill non è una persona irrazionale nel momento in cui discutono questo cioè quello che viene detto devi fidarti devi fare un atto di fede va bene io faccio l'atto di fede e ordina tutti i cacciassinoni di fermarsi stessa cosa fanno i viper umani solo che nel momento in cui stanno trasmettendo i dati i cinque originali devono unire le loro memorie e una dei cinque ha ucciso la moglie di Tyrol e infatti Tyrol si vendicherà su di lei uccidendola e se non sbaglio anche lui ci rimane sotto comunque non si può più trasmettere nulla i dati della ressurrezione sono perduti Cavill decide di farla finita perché non ha più senso non potendo non si può più non può più risuscitare ma soprattutto i siloni sono finiti come specie perché sono rimasti solo loro due e i caccia sono sì ma hanno intelligenze sono caccia che hanno un cervello organico ma non sono intelligenze limitate i centurioni rimasti sono stati mezzi distrutti quindi rimangono solo loro due non c'è più possibilità di ritornare e quindi decide di farla finita e lì c'è la sequenza in cui si deve uscire da quella situazione tornano tutti sul Galactica anche perché una delle navette pesanti colpita dal fuoco dei siloni la pilota si trova con il cockpit rotto sta perdendo ossigeno è ferita gravemente in una speranza di sopravvivere e scarica tutte le testate nucleari direttamente sulla base madre finendo coinvolta nell'esplosione quindi tutti sul Galactica e lì Caratrice esegue il compito che gli è stato ordinato dall'entità inserisce un codice nel sistema di balza del Galactica che è un codice derivato da una canzonetta da un brano musicale che suonava sempre suo padre al pianoforte quindi non ha una logica non se ne capisce senso lo inserisce il Galactica fa l'ultimo balzo perché poi dopo quello quando compare della nuova destinazione si sente chiaramente un crack e non mi ricordo se era solo o si è solo tale che dice si è spezzata la schiena questa nave non volerà più in effetti l'unica cosa che può muoversi è a velocità è a velocità motori normali perché la nave ha spezzato l'infrastruttura da fuori entretutto si vedono i danni cioè a differenza della sua originale la battaglia lo si vede i danni che subisce il Galactica ma anche quanto quanto si usura in questa guerra continua cioè mancano pezzi di corazza ci sono infrastrutture esposte qui si vede chiaramente la nave che ha le due gondole da cui uscivano i Viper piegate in una direzione come se fossero storte all'interno e lì passa appunto l'infrastruttura centrale della nave solo quel pianeta è la Terra la Terra nostra ora la parte finale è estremamente commovente perché i 39.000 superstiti umani e siloni umani decidono di scendere sul pianeta il pianeta 150.000 anni fa quindi popolato dalle popolazioni più primitive che però ad esempio quello che dice il medico il medico di Borno uno di quelli sopravvissuti però questi seppelliscono già i loro morti quindi hanno una religione mentre si decide di lasciare la base madre ai centurioni cioè i siloni meccanici e anche lì viene la discussione ma se poi questi ritornano è quello che mi ha detto è un rischio che possiamo correre perché secondo me non torneranno perché anche quei siloni che hanno seguito i siloni umani ribelli vogliono una cosa sola vogliono una libertà per costruirsi un loro futuro indipendentemente da quello che c'è lì loro vogliono una loro vita che non vogliono più essere coinvolti in questa in questo ciclo infinito e gli umani decidono qui probabilmente hanno preso anche una parte della teoria degli antichi astronauti decidono non di costruire una colonia umana come era successo nel pianeta precedente ma di disperdere su tutto questo pianeta e quindi abbiamo le separazioni abbiamo finalmente capiamo qualcosa ancora di più di Gaius Balta cioè lui effettivamente era innamorato di Caprica ma non lo concepiva perché non era in grado era diventato troppo arido però la sequenza in cui loro due vanno lui indica una zona tra due colline dice quella è una zona buona per l'agricoltura cioè lei lo guarda stranita perché non capisce però anche qui viene un flashback ci viene mostrato chi era il padre di Baltar il padre di Baltar che si era legato molto a Caprica perché Caprica lo rispettava e il padre di Baltar era un agricoltore in quel momento lì ritorna il figlio nel ciclo originale torna a quello che era il padre cioè la tecnologia non ti fa vivere in quel momento ti fa vivere ciò che conosceva il suo padre vediamo Jamie Bamber Apollo che saluta il padre Adamo Adama che se ne va con la Rosli la Rosli ormai è morente infatti trasvoleranno ora non scendono in Africa lo dico subito così c'è anche un motivo dove l'umanità è nata lì in Africa si trasvolano trasvolano un bellissimo lago da cui si alzano i voli i fenicotteri e Laura Rosli muore mentre qui c'è quel viaggio lui le dà il suo anello e poi lo vediamo alla fine dove l'ha seppellita sotto le rocce dove vuole costruire una casa che si affaccia su una valle con dei bellissimi alberi stavo dicendo Apollo saluta il padre e sta parlando con Cara e Cara scompare il suo lavoro è finito deve tornare da lui perché il suo compito è finito vediamo questi che si sparpagliano e poi vediamo un salto temporale cioè l'umanità adesso e vediamo due angeli cioè due raffigurazioni angeli che ci sono Caprica 6 e Gaius Baltar come angeli in questo caso che discutono sul rischio che si ripeta ancora il ciclo o meglio si riavvii il ciclo originale perché vedono anche qui l'umanità materialista che perde la fede che è classista e che sta cominciando a sviluppare intelligenze artificiali e in questo caso è Caprica ad essere più ottimista e dice a un certo punto il ciclo si rompe non fosse altro per ragioni statistiche e io qui sono più ottimista rispetto a quello che succedeva sulle colonie e la scena con la musica che si vede sapete quei robotini anni 80 quei giocattolini lì che viene inquadrato con la musica la serie è fatta veramente bene tutti gli attori sono perfettamente in parte la qualità è estrema i film che hanno aggiunto ne hanno soltanto migliorato le cose posso anche aggiungere in questo senso che ha prodotto videogiochi ha prodotto i giochi da tavolo allora il gioco da tavolo io mi riferisco a questo del reboot cioè se qualcuno è un appassionato non vado a cercare la schifezza uscita ai tempi della serie originale perché quella era una boiata fatta soltanto per mangiarci su era una boiata anche quella su Star Wars e ve lo dico perché l'SPI aveva fatto sì un gioco Freedom of the Galaxy che era ispirato a Star Wars sì però innanzitutto era un board game completamente diverso e poi diciamo così c'era stata la furbata di cambiare tutti i nomi dei protagonisti usando i nomi degli autori del gioco perché se no partivano le erogne col copyright ma è comunque un gioco assolutamente di spessore ma è una simulazione militare sci-fi simulazione militare di fantascienza quello che in Italia l'aveva venduto se non ricordo male gli dritti i giochi era da mettere sotto il tavolo come sostegno alla gamba talmente faceva schifo ma detto questo è una serie assolutamente da recuperare era su Amazon un po' di tempo fa adesso magari è sulla piattaforma che io non voglio più nominare che inizia per la N prima che magari anche loro magari la vanno tolta sapete non è molto il personaggio più negativo così probabilmente quelli che ormai sono degli invasati da tanto da togliere la dicitura LGBTQ plus alla serie su Dahmer solo perché Dahmer aveva un orientamento sessuale non binario della serie siamo proprio delle non abbiamo neanche i coglioni o le ovaie siamo proprio gente che non ha spina dorsale dicevo però se un cofanetto la trovate se prendete il cofanetto che contenga anche i film perché sono assolutamente indispensabili per capire il percorso dei siloni anche da questo punto di vista e Veplan il Razer per capire appunto il destino di Car Trace ma anche per capire esattamente che mostro fosse la miraglia ok è tantissima roba chiudo su una cosa anni dopo è uscito Mass Effect e il finale di Mass Effect ricorda molto il ciclo e riciclo che viene all'interno di la testa galactica anche in Mass Effect abbiamo una guerra continua tra umani e tecnologia umani e intelligenza artificiale quando questa raggiunge l'indipendenza cognitiva e anche qui abbiamo un elemento esteriore in questo caso però l'elemento esteriore è negativo la specie chiamata poi dagli umani quando verranno scoperti leviatani sono loro che dominavano la galassia e ogni fa e sono loro che si trovano avendo comunque la necessità di tenere i loro servitori perché la loro percezione è quella quelli sono servitori non paritari quindi sono inferiori non dover sotto controllo evitando che sistematicamente una volta che questi evolvono creino intelligenza artificiale con cui poi vadano in conflitto costruiscono a loro volta un'intelligenza artificiale che la prima cosa che fa per risolvere il conflitto è evitare che si raggiunga il punto in cui intelligenza artificiale e umani si schiantino uno contro l'altro quindi io li stermino tutti prima che loro arrivino a quel punto e i primi che vengono sterminati sono i leviatani perché? perché loro hanno iniziato il problema perché loro non hanno trovato la soluzione e quindi tanto vale eliminare dall'equazione come si suol dire una soluzione idiota fatta da una macchina idiota in questo caso non abbiamo una Eva non abbiamo una Caratrace in questo caso abbiamo Shepard che costituisce l'elemento di rottura all'interno del ciclo costruito nel sistema del crucibolo cioè un ciclo destinato a ripetersi finché un elemento estraneo non bloccherà questa continua iterazione dei cicli senza far notando che tra l'altro la stessa macchina qualche dubbio se l'era posto aveva già tentato una coesistenza tra umana e macchine ma aveva fallito perché non era ancora il momento cioè mancava l'elemento catalizzante che poteva diventare l'elemento che avrebbe parificato o equilibrato le sorti buono ragazzi 48 minuti di scocciatura io spero che lo guarderete ma soprattutto guardate la serie perché ne vale veramente la pena anche perché lo dico onestamente io ho sempre avuto un grande affetto per James Holmes da quando era Miami Vice a fare il Tenente Castiglio e penso che da a Kate Sarkoff alla Young alla Elfer a Jamie Bamber e così sul T tra l'altro Paul Logan è un attore di qualità assoluta non abbiano mai recitato veramente così bene in altre serie come hanno recitato in questa e guardate che segnatamente ad esempio per Paul Logan stiamo parlando di un attore che è stato che l'ho visto in diverse serie è sempre stato un attore di grandissimo livello ma qui veramente ha dato il massimo è veramente tanto di cappello alla figura di Adama e tanto di cappello all'attrice che ha interpretato l'amiraglio Kane perché il personaggio è la cosa più disgustosa che si sia vista nella serie e ci vuole una brava attrice per renderlo così bene ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti